Nel campionato di calcio di eccellenza, nell'ultimo turno, è tornato alla vittoria il Ponte Bugianese. Contro il Cecina, la squadra di Mr. Shintu, mai messo in discussione dalla società nonostante la difficile situazione in classifica, ha sfatato il tabù per Tini. I biancorossi non vincevano in casa dalla nona giornata. L'aver fatto sua, quella che poteva considerarsi a tutti gli effetti una sfida a salvezza, ha dato una bella spinta al Ponte, che si trova adesso a 18 punti. Ultima entro il limite della zona play-out. Rinforzata anche da diversi giocatori tornati a disposizione, la squadra biancorossa dovrà affrontare nella prossima giornata la difficile trasferta a Fucecchio, seconda della classe. Ma ci arriva in un buon momento di forma, con alle spalle quattro punti conquistati nell'ultime due gare. Quindi anche il morale sorride un po' di più. I fiorentini sono reduci dalla sconfitta a Castelnuovo-Garfagnana, avranno voglia di riscatto, anche perché dietro di loro preme la Valdinevole Montecatini, solo tre lunghezze sotto. E i termali, che vengono dal secondo pareggio consecutivo, quello con il Cenaia, vogliono tornare al successo per non perdere terreno sulle prime due. Adesso Montecatini si trova al terzo posto con 37 punti, davanti a sé ha la gara casalinga con il Castelnuovo-Garfagnana, occasione giusta per ritrovare la vittoria e continuare a tenere il passo alle big del girone. Sia il Ponte Bugianese che Montecatini potranno contare di nuovo sui tecnici in panchina, Scintu da una parte e Marcelli dall'altra. Entrambi hanno scontato la giornata di squalifica presa nel derby di due settimane fa al Mariotti.